Grazie a tutti, grazie Paolo per l'introduzione e la presentazione. Benvenuti in questa purtroppo ultima tappa del vostro viaggio andata e ritorno per il Cile. Io sono molto contenta e onorata di accompagnarvi in questa ultima tappa e spero di essere all'altezza del viaggio e dell'importanza del viaggio e della bellezza del viaggio. Come diceva Paolo, io mi chiamo Silvia, ho tradotto di Perle e cicatrici e appunto vivo qua a Talca in Cile, una città a circa tre ore a sud di Santiago dove sono arrivata quasi per caso, io sono andata a Santiago per tradurre di Perle e cicatrici e un giorno sono finita qui perché facevano una mostra sulle opere di Le Mebel e alla fine sono rimasta qua, cosa della vita. Diciamo che vorrei cominciare intanto forse raccontarvi come mai, come l'ho conosciuto Le Mebel, non Le Mebel in sé purtroppo, ma le sue opere, i suoi libri. Io avevo studiato, ho studiato solamente traduzione tecnica, all'inizio avevo studiato solamente traduzione tecnica e interpretariato, quindi andavo per la vita con un vuoto nel petto cercando qualcosa in più e un giorno mi sono imbattuta in un laboratorio di traduzione che si svolgeva a Roma dove si affrontava, si traduceva in gruppo un libro di Le Mebel che è Parlami d'amore, pubblicato da Marcosi Marcos e in quell'occasione io mi innamorai già delle parole di Le Mebel, delle sue cronache e quindi decisi di continuare a studiare, di scrivermi alla magistrale a Pisa in traduzione letteraria e poi di tradurre Pedro Le Mebel per la mia tesi. E siamo arrivati qua. Ho scritto Paolo e Alice che hanno accolto la mia proposta con molta gioia, anche se poi è stato un lavoro molto duro, insieme abbiamo dovuto lavorare moltissimo sul libro, ma ha dato anche tantissime soddisfazioni, sono molto contenta di com'è avvenuto e insomma sono innamorata io di Parle Cicatrici, il mio libro preferito. Vorrei parlare un po' di chi è Pedro Le Mebel, perché è importante, perché tutti siamo innamorati di Pedro Le Mebel, che cosa ha fatto, da dove viene, no? Lui è nato negli anni 50 in un quartiere periferico di Santiago, è cresciuto per strada, in casa, con gli amici, una vita semplice, ha studiato in un istituto tecnico, poi all'università storia dell'arte ed è diventato professore. Il problema è che era omosessuale e non condivideva la dittatura di Pinochet, era comunista, le mebel, era omosessuale e per questo motivo ho avuto un sacco di problemi, specialmente negli anni della dittatura, negli anni 80, quando lavorava come professore in un liceo ed è stato licenziato più di una volta, se non mi sbaglio, più di un istituto e qua mi viene in mente una delle domande che sono state fatte da Onofrio, se non mi sbaglio, se Le Mebel ha avuto un po' come gli italiani Pasolini e Sciascia, lo stesso tipo di isolamento culturale da parte anche degli altri intellettuali che comunque rispetto al momento in cui hanno vissuto. Sicuramente Le Mebel ne ha sofferto più che altro, io direi, prima di cominciare a scrivere, perché poi, sì, il suo riconoscimento a livello internazionale è arrivato tardi, soprattutto dopo la sua morte, ma in Cile, a Santiago, nel suo quartiere dove viveva, viveva la Starria, una volta dopo, già quando era già uno scrittore conosciuto, era molto amato. Ma sì, negli anni Ottanta, all'inizio, quando ha cominciato a scrivere, negli anni Ottanta, dopo essere stato licenziato nel suo lavoro, è stato a scrivere, avvicinandosi a dei lavoratori letterari, sempre nei circoli intellettuali di sinistra, quindi pirata, è stato pubblicato l'altro libro che abbiamo tradotto di Le Mebel con Edicola, che è il raccontabile, è stato pubblicato su carta da pacchi, praticamente, e veniva venduto per strada, con delle bellissime illustrazioni, fra l'altro. Quindi Le Mebel è un personaggio molto particolare. Questa è solo una parte di tutte le cose che ha fatto. Nell'86 è molto famoso questo episodio in cui c'era una riunione nella stazione Mapocio a Santiago, dei tutti i partiti di sinistra, che rifiutavano. Anche qua c'è il rifiuto, anche qui Le Mebel ha sofferto il rifiuto da parte dei partiti di sinistra, del partito comunista al quale voleva partecipare, che invece lo rifiutava per il fatto che era omosessuale. Lui si è presentato, truccato e con i tacchi alti, con una bella falce e martello qua dipinta sulla faccia, e ha letto il suo manifesto, Hablo con me differenzia. Se volete potete trovare anche la traduzione sul blog di Edicola, l'ho tradotto per Edicola. E questa cosa è rimasta nella storia del Cile, tutti se lo ricordano, tutti lo sanno, tutti ne parlano. Nell'87, insieme a Francisco Casas, che è un altro scrittore chileno, adesso vive in Perù, ho avuto il piacere di conoscerlo anche lui quando sono venuta in Cile a Talca, quella famosa prima volta, fonda un collettivo artistico che si chiama Iewas dell'Apocalipsis, che è come dire cavalle dell'Apocalipsis. E con Francisco Casas organizzano questi interventi, queste performance, se vogliamo, in luoghi particolari o in date particolari, in cui, come diceva Paolo prima, lasciano il segno, fanno riflettere, sono d'impatto, sono arrabbiate, sono molto speciali. Per esempio, il 12 ottobre, che è l'anniversario della scoperta dell'America, scoperta relativamente da un punto di vista eurocentrico, il 12 ottobre dell'89, se non mi sbaglio, hanno fatto questa performance nella sala della Commissione per i diritti umani a Santiago, dove hanno ballato la cueca, che è il ballo tradizionale ciliano, su una mappa dell'America Latina, con tutti questi vetri rotti di bottiglie di Coca-Cola, a simboleggiare il colonialismo statunitense, no, sull'America Latina. E non è l'unica, ci sono tantissime di queste performance, che erano un po' l'oggetto della mostra che veni a vedere io nel 2017 qui a Talca, all'Università di Talca, che la organizzava in occasione del compleanno delle mie belle, anche perché pochi anni prima gli aveva dato il premio Costello Nusso, il premio di letteratura. Quindi, insomma, negli anni Ottanta si dà da fare le mie belle, con tutta una serie di cose importanti, solo a metà degli anni Ottanta, degli anni Novanta, scusate, comincia a pubblicare le sue cronache e il suo unico romanzo, che è Tengo Miano Torero, Paura Torero, che si tratta di raccolte di cronache. Cosa sono le cronache? Non so se sicuramente vi siete resi conto dalla lettura che questi testi, questi testi delle mie belle sono diversi, no? Non sono racconti in sé per sé, sono cronache. Che vuol dire cronache? Uno pensa alla cronaca nera, la cronaca rosa, la cronaca è come una cosa giornalistica, no? Lui che fa? Prende la cronaca, il genere cronache, che è nato nell'antichità per parlare di grandi eroi, di grandi cesta, e la trasforma in questo modo. Invece di parlare di grandi eroi, le grandi cesta, di grandi condottieri dell'antichità, ci racconta della loca, dell'angolo, dei personaggi più marginali esistenti, di tutte queste cose delle quali nessuno non vuole neanche sapere, no? Di tutte queste cose che quasi sono, specialmente in Cile per come è la società cilena, c'è una grande difficoltà, un grande rifiuto verso questi soggetti e questi oggetti di cui ci parla le belle. Dico anche oggetti perché non parla solo di persone, ma anche di spazi, no? Anche di situazioni, non solo di personaggi marginali, ma anche di spazi, secondo me. E io lo trovo fantastico, lo trovo geniale, oltretutto con questo linguaggio che anche lì unisce l'urbano, il colloquialismo, il modo di parlare il coa, che qua in Cile è la lingua delle carceri, dei prigionieri, la lingua dei più poveri, dei meno voluti, li unisce con questo stile, con queste metafore, con questi aggettivi bellissimi, con queste parole inventate così colorate, così floreali, e ne esce fuori una cosa spettacolare. Purtroppo, Pedro è morto nel 2015 per un cancro alla laringe, quindi non sono riuscita a conoscerlo, perché io sono andata qua nel 2017, però conosco anche molte persone che sono state al suo funerale, e ho visto un po', è stato bellissimo, il funerale secondo me ha rappresentato proprio l'importanza di Pedro, specialmente per molti ragazzi, anche giovani, moltissime persone. Io sono stata una volta a vedere un documentario su Lemebel, qui a Talca, era praticamente un mini cinema dell'università, e c'erano tantissimi ragazzi che dopo, nella conversazione che c'è stata dopo il documentario, dicevano quanto loro abbiano amato Lemebel, per le cose che ha detto, le cose che ha fatto, e quanto li abbia aiutati nel loro percorso, se erano omosessuali, se avevano veramente quanto sia stato importante nel loro percorso personale, anche. Quindi, niente, oltre ad essere un grande scrittore, un grande artista, è socialmente molto importante. E niente, questo un po', per chiudere, per dirvi quello che secondo me c'è da dire sull'autore, perché è importante, perché l'ho scelto praticamente, quali sono le ragioni, eccole qua, perché sono innamorata dell'Emebel. E adesso passerei invece a parlare un po' del libro, che siamo qua apposta, quindi di Perle cicatrici. Cominciando da dire perché ho scelto questo libro di tutte le altre raccolte che ci sono dell'Emebel, ho scelto questo libro perché secondo me racconta del Cile in tutti i suoi aspetti. Cioè io quando l'ho letto mi sono immaginata, infatti il titolo della mia casa era questo, più o meno era Un Paese allo specchio, il Cile, bla bla bla, manco mi ricordo il titolo per me, era Un Paese allo specchio, il succo della cosa. Perché io mi sono immaginata, vedo l'Emebel, cioè mi immagina, volendo fare una metafora, l'Emebel che con il libro, un libro specchio lo sbatte in faccia il Cile così, e il Cile che rimane, mi devo guardare dentro, perché c'è stata la dittatura, c'è stata una transizione verso la democrazia, non c'è stata una rivoluzione, è stata una transizione lenta e ancora forse non è finita. Quindi a un certo punto l'Emebel dice, oh, qui c'è la democrazia, qui il Paese è cambiato, ma sei cambiato o non sei cambiato? E gli sbatte in faccia lo specchio, gli fa vedere il passato, gli fa vedere il presente, gli fa vedere il futuro, lo fa riflettere su cosa c'è in Cile, che cosa c'è, che succede, cosa è successo. Un po' invocare anche la memoria, non ti scordare Cile, che tu adesso sei in democrazia, ma prima cosa è successo, e che cosa hai intenzione di fare riguardo al tuo passato. Questo è un po' specialmente la prima parte del libro, se ci fate caso, si potrebbe dire quasi che il libro è diviso in due parti, sono diverse sezioni, ma in particolare due grandi tematiche. La prima è la dittatura, la transizione, e la seconda, che è più gli spazi di Santiago, i personaggi della marginalità, il folklore, la cultura, anche tragica, magari terremoti, inondazioni, cose divertenti, il record, quindi sono questi due. E la prima parte è proprio questo, secondo me, è proprio una, come dice all'inizio, nell'introduzione, un processo di Norimberga al Cile. E qua è proprio il titolo, le perle e le cicatrici. Le perle invocano proprio anche la classe, secondo me, alta, molto anche conservatrice, cattolica, cilena, di quegli anni, che ancora persiste, ci sono ancora queste perle qua in Cile, io le conosco, le vedo. E invece le cicatrici, le vittime, non solo le vittime della dittatura, ma anche tutte le vittime di questa società così classista, così conservatrice, perché in realtà questa società così classista e conservatrice che sembra avere tutto questo peso in Cile, in realtà sarà il 5% della popolazione, sono poche, ma sono pesanti, sono grandi, sono quelli che hanno potere, praticamente. Ma poi ci sono gli altri, e adesso con le rivolte che ci sono state l'anno scorso, con l'estaiuto social, come si chiama, abbiamo visto che già questo peso stanno cominciando a perdere, che le cicatrici ormai sono troppe, già non c'è più, non si sopportano più, no? Quindi, in qualche modo sarebbe bello se Le Mbele fosse ancora qui per vederlo, perché secondo me sarebbe molto felice, sarebbe, come dire, visto? L'avevo detto io, eccoli qui, mi dispiace che sia morto, perché è veramente una grossa perdita per il paese. Beh, questo libro, come vi dicevo prima, come la maggior parte dei libri di Le Mbele, sono delle cronache, quindi sono raccolte, e ogni cronaca viene scritta prima, lui scriveva per i giornali, delle riviste, La Nazione, Punto Final, Pachina Vierta, del Clinique, ha scritto, scriveva queste cronache, per esempio, tutte le domeniche usciva la sua cronaca su La Nazione, e lui quindi, poi, che succede? Che dopo, nel 98, è stato pubblicato per la prima volta questo libro, sono state raccolte con questa struttura e questo tema. Queste cronache, in particolare, sono state scritte per Radio Tierra, che era una radio femminista, rivoluzionaria, ai tempi, e lui, ogni, credo, una volta alla settimana aveva il suo programma che si chiamava Cansionero e leggeva una delle sue cronache. A me piacerebbe anche farvelo sentire, perché su YouTube ci sono queste cronache con lui, con la sua voce, con lui che le legge. Se vi va, potremmo 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 ascoltarne una e seguirla, se volete, mi pagliamo sul libro, vi dico quale. Vorrei, avevo scelto, avevo pensato di ascoltare la leva, che è la versione spagnola di, cioè, chilena, del branco. In relazione anche a un'altra domanda che mi è arrivata e che è, se, pensando a questa cronaca così dura, no? Così, così terribile come la situazione, anche pensando che è appena passata la festa della donna, della violenza sulle donne, se si cerca di nascondere o meno in Cile oggigiorno questo problema, o se si affronta, qual è la situazione. Direi che si affronta adesso, c'è tantissimo macismo ancora in Cile, specialmente in alcune categorie sociali, io direi che fra le più basse, specialmente, c'è ancora tantissimo macismo, ma da quando c'è stata, dalle proteste dell'anno scorso tante cose sono cambiate, tante cose sono state direte, non so se avete visto la performance della Stesis dell'anno scorso in occasione della, sempre dell'etaglio sociale, in ottobre 2019, hanno fatto, si è diffusa in tutto il mondo la loro canzone con la loro, anche quella è una performance artistica come quella delle mie belle cui vi parlavo. Quindi io direi che se ne parla moltissimo e soprattutto fra i giovani c'è veramente una grossa differenza. Io insegno all'università, i ragazzi sono, usano, usano, in italiano si usano gli asterischi a un linguaggio inclusivo, no? E non so neanche come si dice in Italia penso che lo dico per il linguaggio non sessista diciamo. E qua tra i giovani i miei alunni dell'università che io insegno inglese lì sono tutti all about that. Scrivono con la chiocciola oppure hanno tutti i loro sistemi e questo è solamente è un sintomo diciamo che per loro è importante la parità di genere e il discorso sulle donne e sono molto aperti l'omosessualità è vissuto in modo diverso io lo vedo perché alcuni di loro c'erano su Instagram e sono baci fra ragazzi baci fra ragazze cioè proprio l'amore è vissuto in modo diverso io vedo una generazione molto libera molto più felice nonostante la pandemia e nonostante tutto e molto più molto più libera quindi io vorrei lasciare vorrei rispondere questa domanda sulla sulla violenza sulle donne con uno slancio di ottimismo nonostante tutto perché ci sono ancora moltissimi moltissimi problemi senz'altro e beh quindi diciamo che prima di passare a guardare a guardare a ascoltare barra guardare il Pedro che ci legge la leva vorrei dire che una cosa che riguarda la mia esperienza di traduzione del libro quello che io ho sentito diciamo quando l'ho tradotto per la prima volta a parte una grossa difficoltà è stato che a volte era talmente totalizzante la lettura talmente forte per esempio quando ho letto il branco la leva non potevo mi scordavo che stavo lavorando mi facevo prendere dall'esperienza di lettura e da lì specialmente con tutti questi riferimenti magari non il branco il branco è per il contenuto ma altri cronici questi riferimenti ai personaggi culturali della cultura popolare chilena cantanti presentatori Don Francisco tutti questi personaggi che io non conoscevo all'inizio e quindi te leggevo Don Francisco vediamo lo cercavo guarda il programma e poi mi mandavano e poi e quindi passavo ore a praticamente studiare la cultura popolare cilena e mi divertivo mi sono divertita un sacco ho tradotto di Perle e cicatrici ascoltando Los Prisioneros ma anche tutte le tutte le canzoni che ci sono nel libro le ho ascoltate tutte più di una volta ogni cronaca viene con la sua con la sua canzone questo è anche un po' in relazione forse al fatto che erano cronachi per la radio quindi pensate in un certo modo e io l'ho trovato molto molto bello e molto divertente a volte anche molto tragico non tutte le canzoni sono belle allegri sono molti cronachi tristi ma anche per quello ancora più sempre leggere e tradurre un libro così molto molto presa tutto il tempo e beh come concludere diciamo che oltre a questo io avendo tradotto il libro a Santiago camminavo per la strada e c'era la cronaca per esempio su io vivevo a Gnugno la Repubblica Livre di Gnugno dove c'è la piazza Gnugno il bar La Lanzas dove andavano intellettuali della Whiskyer a sorseggiare il proprio whisky a parlare dei loro ideali ormai abbandonati con la loro cravatta e il loro lavoro ormai non più con la loro barba tagliata e i capelli corti no? e io ho avuto l'opportunità di andarci di vederlo di 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 ordinare una un bicchiere di non di whisky ma di non so di sangria o di borgogna che è una specie di sangria con le fragole e e tradurlo lì la stessa cronaca quindi io leggevo una cosa nel libro ma ero anche dentro il libro adesso per me è stato bellissimo e se volete sul blog di Edicola trovate un articolo che scrissi a proposito di questo sulla mia esperienza di traduzione di partito e niente questo è tutto direi mi piacerebbe adesso condividervi la la cronaca vediamo un po' eh ok perfetto perfetto allora la leva è il branco che io adesso qua ho le bozze ho la bozza non ho il libro ufficiale finale per cui la pagina non sono sicura che sia quella giusta comunque della seconda sezione io ho pagina 51 è la seconda cronaca della seconda sezione non so se Paola è il libro è il libro giusto con sé comunque dovrebbe essere dovrebbe essere per in lì come si dice dalle mie parti dalle mie altre parti toscane vediamo pagina 40 grazie grazie mille pagina 40 bene vediamo se ho condiviso anche l'audio perché se non condivido l'audio non si sente niente ecco vediamo ok ci siamo tutti siamo pronti pagina 40 questo è il branco la leva Radio Tierra presenta la leva al mirar la leva de perros babosos encaramandose sobre la perra cansada la quiltra flaca que ya no puede más que se acurruca en un rincón para que la deje tranquila la jauría de hocicos y patas que la montan sin respiro al captar esta escena me acuerdo de aquella chica fresca que pasaba cada tarde con su cimbreado caminar era la más bella flor del barrio pobretón que la veía pasar con sus minifaldas alunares cuando los 60 contagiaban su moda destapada y fiebres de juventud ella era la única que se aventuraba con los escotes atrevidos y las espaldas piluchas y esos vestidos cortísimos como de muñeca que le alargaban sus piernas del tobillo con suecos hasta el mini calzón que le aquellas tardes de calor las viejas sentadas en las puertas se escandalizaban con su paseo con su ingenua provocación a la patota de la esquina siempre donde mismo siempre hilando babas de machos burlescos la patota del club deportivo siempre dispuesta al chiflido al mijita rica al rosario de piropos groseros que la hacían sonrojarse tropezar o apurar el paso temerosa de esa calentura violenta que se protegía en el grupo por eso la chica de la moda no los miraba ni siquiera les hacía caso con su porte de reina rasca de condesa torreja que copiaba moldes y figurines de revistas para engalanar su juventud pobladora con trapos coloridos y zarandajas pop tan creída la tonta decían las cabras del barrio picadas con la chica de la moda que provocaba tanta envidiosa admiración parece puta murmuraban riéndose cuando el grupo de la esquina la tapaba con besos y tallas y puede haber sido el calor de ese verano el detonante culpable de todo lo que pasó pudo ser un castigo social sobre alguien que sobresale de su medio sobre la chica inocente que esa noche pasó tan tarde tan oscura la boca de la calle tenía sombras de lobo y curiosamente no se veía un alma cuando llegó a la esquina cuando extrañada esperó que la barra le gritara algo pero no escuchó ningún ruido y caminó como siempre bordeando el tierral de la cancha de fútbol cuando no alcanzó a gritar y unos tentáculos la agarraron desde las sombras y ahí mismo el golpe en la cabeza ahí mismo el peso de varios cuerpos revolcándola en el suelo rajándole la blusa desnudándola entre todos querían despedazarla con manoseos y agarrones desesperados ahí mismo se turnaron para amordazarla y sujetarle los brazos abriéndole las piernas montándola epilepticos en el apuro del capote poblacional ya ok facciamo una pausa che è lunga comunque era più che altro mi interessava farvi sentire la sua voce è comunque un privilegio poter ancora sentire il programma che purtroppo non c'è più non c'è più neanche la radio e questo è un po' quello che diciamo avevo pensato e per l'incontro di oggi mi piacerebbe anche sapere da voi le vostre impressioni e le cose che avete che cosa vi ha trasmesso il libro quando l'avete letto se c'è una cronaca in particolare che vi è piaciuta o che non vi è piaciuta o che vi ha non so cosa cosa se volete dire qualcosa non so posso io ciao innanzitutto complimenti per la bellissima traduzione un altro racconto è quello della Victoria della bambina ecco quello mi ha colpito tantissimo forse addirittura più del brano la piccola neonata desaparesito insomma ecco volevo chiederti le tue impressioni da oltre che da appunto traduttrice da da donna più che altro da futura madre se non lo sei già insomma ecco da futura madre su su questo terribile su questo terribile diciamo racconto veramente da brividi questo ancora di più del branco secondo me ecco perché d'altronde si parla di una di una piccola scomparsa non si sa nemmeno la fine di questa vittoria che abbia fatto ecco non c'è né un corpicino da piangere né ma addirittura poi le due mamme se non sbaglio una di origine cilena e un oppure il padre di origine cilena e la madre di origine argentina non so ha a che fare anche con l'argentina se non sbaglio con la dittatura degli anni 70 anche in argentina dei militari una delle due si suicidò e l'altra non ebbe mai giustizia quindi tragedia nella tragedia e niente una tua impressione su quest'altro racconto molto forte oltre che sul branco poi in generale in generale ecco volevo un po' rilanciarmi alla domanda che avevo fatto alla riflessione alla mia piccola riflessione che ho fatto per quanto riguarda appunto la censura e la censura e la censura io ho fatto appunto questo collegamento con l'Italia del dopoguerra l'Italia democratica bella libera e del boom economico del dopoguerra e sappiamo che anche in Italia appunto vigeva una sorta di censura magari con modalità diverse con sofisticherie diverse ma sappiamo benissimo che due grandi scrittori intellettuali che ho citato vennero di fatto censurati in quanto appunto scrittori disorganici al potere liberi sì sì riguardo al adesso non ti non ti vedo non lo so comunque mi senti sì sì sono qua io li vedo io li vedo tutti vabbè allora continuo a parlare anche se non ti vedo ok dicevo appunto scrittori disorganici che hanno subito anche esse appunto la censura non solo del potere diciamo tra virgolette ma anche della diciamo da quegli ambienti culturali da cui provenivano basti pensare appunto i famosi ragazzi di vita di Pasolini è un romanzo censurato dalla stessa casa editrice così come gli scritti corsari o anche dei libri di Leonardo Sciascia che appunto erano spietate spietate critiche al potere inteso nelle sue varie scettature economico ecclesiastico finanziario e così via ecco quindi diciamo ecco la censura come l'inquisizione direi non ha confini e opera opera indipendentemente dai governi o dai paesi ecco dai paesi da cui proviene solamente questo ecco grazie per il resto Silvia Sì riguardo brevemente sul ricorso sulla censura sì non ho molto da aggiungere sono è vero sul manifesto che scrive l'Mebel quando lo legge all'incontro adesso ti rivedo meno male mi ero preoccupato quasi i problemi tecnici lui cita Pasolini addirittura questo non lo so anche se dice non sono Pasolini che chiedo spiegazioni lui si pone si diciamo si pone altro da Pasolini ma in realtà sono molto legato secondo me c'è questa connessione con l'Mebel senza altro l'Mebel è molto sfacciato lui io anche Pasolini un po' era sfacciato diciamo la verità ecco magari a differenza di Sciascia che era molto più compassato però era molto tagliente Sciascia addirittura diceva che bisogna avere fede nella scrittura perché un colpo perché un colpo di penna equivale a un colpo di spada si può ristabilire addirittura un'ingiustizia o un sopruso con un colpo di penna e questo l'ho accostato molto all'Mebel la sua scrittura è proprio diciamo rivoluzionaria cioè sono colpi di spada sono colpi di spada quelli di l'Mebel veri e propri colpi di spada secondo me proprio guarda leggendo l'Mebel mi sono venuti in mente questi due grandi nostri intellettuali scrittori del novecento italiano sì è proprio vero sì io sono d'accordo penso che anche forse nel pensare che anche Pasolini non era solamente scrittore era un artista tutto tondo e lo stesso l'Mebel quindi sono personaggi molto affini secondo me e rispetto alla censura come dicevo prima l'Mebel ha avuto un percorso forse un po' diverso perché lui durante la dittatura pubblicava in modo pirata i suoi libri li distribuivano per le strade quindi era una cosa cagliata come si dice il sbagliato nascosta e poi quando inizi a pubblicare no lui pubblica e non viene censurato per quanto ne so riguardo all'altra alla cronica alla cronaca di Claudia Vittoria è una di quelle cronache che quando l'ho tradotta mi sono scordata che stavo lavorando una di quelle famose cronache molte di queste anche quella su Carina Itel e anche quella quella sull'informe Rettig sull'operazione Albania tutte queste cronache sono molto dure da leggere molto dure da tradurre e da rileggere e mi hanno tutte causato un grosso impatto emotivo io sinceramente io penso che questo sia queste cronache sono la ragione per quello che quelle che mi hanno fatto pensare alle mie belle che mette lo specchio davanti al paese perché sono proprio ma qua è successo questo e nessuno dice niente nessuno ne parla più che fine ha fatto sta bambina è proprio quello che fa le mie belle e quindi è proprio questa l'importanza del libro secondo me sta in questi cronache sono schiaffi e che obbligano il lettore a ricordare il lettore cileno in particolare e a noi a sapere queste storie che non conoscevamo non sapevamo e comunque sappiamo conosciamo la dittatura io prima di venire in Cile prima di leggere le mie belle sapevo non c'è basta non è che non avevo idea di che cosa di che cosa avesse significato la dittatura in Cile della storia e adesso adesso che lo so sicuramente è anche anche una crescita personale è un modo per imparare anche a prendere le mie merci insegna secondo me che la realtà è molto più complessa di quello che sembra c'è sempre anche questo discorso molto ricorrente nel libro della televisione quello che ci fa vedere non è spesso la verità o è la verità rigirata in un altro modo detta in un altro modo che nasconde alcune cose e mostra altre sono tutte cose che insegnano e che se uno ci riflette guarda la televisione passivamente ok invece no ci fa ci fa veramente riflettere su quello che ovviamente su questi anche cioè che questo 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 discorso copre anche cose molto gravi no? che durante la dittatura ma anche dopo non solo durante la dittatura durante tutta la transizione e forse anche forse anche durante per esempio è stato molto parlato di questo di questo discorso in occasione delle proteste del 2019 2020 anche ci sono ancora e il ruolo no? delle notizie della tele di quello che si sa quello che non si sa quindi sì sì questo è un po' c'è qualcuno che grida qui fuori ma non credo che stia sì stanno gridando qui fuori ok scusate cioè il giardiniere che viene a gridare e mi viene a aprire la porta ma non mi serve il giardiniere quindi ecco sì questo scusate l'interruzione ma sì queste sono le cronache che ripeto mi hanno fatto più riflettere mi hanno fatto più male anche durante la lettura non so se qualcun altro voleva aggiungere qualcosa magari sempre rispetto a questa stessa parte del libro un altro commento nessuno a me un'altra cronaca scusate mi esce lo spagnolo continuamente che mi è piaciuta molto che mi ha fatto che mi ha entristito tantissimo è quella di specialmente dopo le proteste dell'anno scorso è stata quella di Ronald Wood che era un allunno di Leme Bell che è morto durante una manifestazione durante la dittatura qua l'anno scorso durante durante le proteste ci sono stati tantissimi abusi da parte della polizia nei confronti dei manifestanti e questo ragazzo ha perso un ragazzo in particolare ma ci sono stati molti feriti per colpa dei proiettili di gomma e questo ragazzo ha perso gli occhi ha perso la vista come si chiama Gustavo Gatica eh Gatica Gustavo Gatica o no? Gatica Gatica e Gustavo sì lui è diventato un simbolo delle manifestazioni dell'anno scorso ho ripensato molto a Ronald Wood in questa occasione perché sono ragazzi giovani uno ha perso la vita purtroppo l'altro ha perso la vista la fortuna dell'altro è che la fortuna è che nella sua perdita è diventato un grande un importantissimo simbolo di quello che è successo l'anno scorso almeno questo purtroppo è così l'unico lato l'unico lato positivo diciamo che la sua perdita è servita a una causa una causa grande invece il povero Ronald beh Leme Vel con le sue crone che dà voce a questi personaggi ai quali si è stata tolta con la morte con la tortura con la sparizione lui dà voce a queste persone che l'hanno persa e gli dà un nuovo significato dà un'importanza alla morte di Ronald Wood e ce la fa ce la fa conoscere anche a noi che viviamo lontano che abbiamo un'altra nostra vita non c'entra niente e adesso c'entra un po' quindi è una cosa grande la mia domanda sarebbe più che altro sulla riconciliazione nel dopodittatura dato che è stata una transizione non c'è stato un movimento diciamo rivoluzionario o comunque truento il problema è fare i conti con la dittatura e in Argentina con alterne vicende hanno poi fatto una serie e di leggi e di atti anche effettivi adesso ovviamente non mi viene in mente il nome di quel palco che hanno riadattato dalla da una delle caserne riguate dalla polizia mi viene in mente il nome c'è qualcosa del genere in Cile? Io direi che paradossalmente fino fino alle proteste dell'anno scorso no cioè un evento sicuramente ci sono state alcune leggi alcune cose specialmente dal punto di vista dei diritti umani e di tutto ciò che poi si è saputo della dittatura la stessa opera di Leme Berry parte di quel movimento di quel sistema che ha tirato diciamo tirato non tirato portato allo scoperto quello che era nascosto quello che non si diceva quello che prima era diciamo non si diceva non si voleva dire non si sapeva e non parlo non vedo non sento quindi sì però la costituzione è la stessa di quella della dittatura è scritta fino a c'è siamo sempre lì quindi anche anche la la politica economica è la stessa non è che si è cambiata un gran che destra o sinistra che vogliamo qui il capitalismo estremo e il capitalismo estremo non ci sono così tante differenze a parte che adesso a parte a parte la tortura non è che sia cambiato molto sì però ci sono c'è tutto secondo me il movimento di proteste che è iniziato l'anno scorso è proprio il sintomo di questa cosa che la gente dice ma qui siamo in democrazia ma non è cambiato niente noi vogliamo un paese diverso vogliamo chiudere con il passato andare avanti ricordare c'è il museo della memoria ci sono dal punto da quel punto di vista sì però sono cambiamenti i cambiamenti sono stati pochi quindi io credo che è una delle principali cause anche perché c'è stata la rivolta sociale perché la gente è stufa di questa società classista di tutta questa differenza tra i poveri e i ricchi di questo 5% della popolazione che vive da re con l'elicottero e gli altri che stanno qua a mettere due lucas una dietro in fila una dietro l'altra per arrivare a fine mese e pagare tutto privato la salute il sistema delle pensioni tutto privato quindi centralizzato e privato per quanto ne so sì quindi se posso aggiungere non è finita non è la stessa situazione dell'argentina anche per un per un modo d'essere della politica cilena soprattutto della destra della della politica cilena che è questo classismo estremo che porta alla superiorità e a e a non prendere assolutamente in considerazione per quanto possa essere diverso il tuo interlocutore è sempre un essere umano la protesta sociale è scoppiata giustamente per tutti i temi che diceva che ci raccontava Silvia prima ma anche per degli atteggiamenti verbali della politica quando il ministro di salute invece di dire abbiamo un problema con i pronto soccorsi dice ma perché i vecchi vanno lì a fare attività sociali nei pronto soccorsi quando il ministro dei trasporti dice invece di dire sì è vero progressivamente la metropolitana sta aumentando di tot pesos perché abbiamo delle necessità dice se volete pagare di meno svegliatevi prima e prendete la fascia oraria dove il biglietto costa di meno e questo atteggiamento si porta avanti dalla forse anche da prima della dittatura da quando gli ex amici di Pinochet di Allende l'hanno tradito da quando Pinochet ha favorito questo atteggiamento da in Cile si dice da padron de fundo da da un grande possidente terreno la tifondista la tifondista capito questo il Cile ha tutta una storia di governi di destra antecedenti ad Allende di una certa lunghezza quantomeno se non ci fosse stato Allende il Cile è un paese estremamente di destra anche molto molto non so se è pertinente ma prima di Allende riforma agraria che voluta non voluta eccetera era molto la tifondista il Cile a livello economico il funzionamento economico del Cile era molto basato sull'atifondo su questi terreni con la tifondica e i lavoratori che lavoravano nel terreno del capo quindi molto era molto davvero la tifondista nel vero senso della parola poi con il governo di Allende sono cambiate alcune cose e poi dopo passiamo passati a una cosa più politica diciamo con i Chicago Boys e sono cambiate le cose però prima degli Allende c'era questa situazione molto molto medievale molto sì ricordiamoci che la riforma agraria in Italia è degli anni 50 con la creazione della mezzodria eccetera cioè non è che anche prima che si parlava dei diritti delle donne ce lo ricordiamo tutti che c'è c'è voluto l'inizio degli anni 80 perché lo studio non fosse più considerato un delitto contro la morale non contro la persona cioè noi diciamo spesso e volentieri che altri paesi sono peggio ma direi che anche qua non si scherza ecco quello senza dubbio poi nella complessità di questi argomenti è sempre triste riflettere fino in fondo in Cile l'aborto non è legale è legale solamente per altre cause e nonostante tutto la legalità è arrivata da un paio d'anni ed è continuo ad essere messa in discussione dalla destra che vive dei voti dei cattolici degli evangelici di tutti quei movimenti niente contro le credenze personali è solo un discorso di matematica la raccolta di voti alla fine lo sappiamo tutti però purtroppo dietro questa matematica c'è sempre una concezione della vita che per cause economiche viene imposta senza poter controbattere questo era l'emmebel quando giustamente diceva Silvia sbatto uno specchio in faccia alla realtà attraverso la scrittura lui non è stato effettivamente mai censurato soprattutto per vari motivi primo perché quello che faceva era capacissimo di appoggiare l'editoria pirata per esempio se lui trovava un suo libro ne abbiamo parlato dell'editoria pirata in Cile se lui trovava un suo libro in vendita sulle strade un libro pirata si fermava si sedeva lì con il povero che lo stava vendendo e li autografava tutti per fargli vendere più velocemente non è questo atteggiamento che può essere può sembrare eccentrico alla fine rappresenta la sua intenzione e la sua coerenza di andare contro questo schema di pensiero legato all'economia non è stato censurato non è Pasolini perché le me belle nonostante anche lui venisse da un quartiere marginale diciamo che forse molto più marginale di quello conoscendolo non è una lotta di quartieri però molto più marginale di quello di Pasolini non aveva problemi a trattare qualsiasi tipo di autorità secondo quello che gli passava per la testa insomma io ho conosciuto le me belle quando ho lavorato come fotografo alla Nazione mi odiava perché mi diceva Tano Kuleao tu parli poco significa italiano italiano figlio di puttana parli molto poco quindi non mi fido di te però no odiava un termine eccessivo una volta gli ho visto sputare sulle scarpe al nuovo ministro della cultura che è un ex attore di telenovela che si è avvicinato a lui all'inaugurazione di una mostra al Museo Nazionale di Belle Artes di Belle Arti solamente per farsi evidentemente per farsi fotografare con il personaggio amato dal popolo e l'ha guardato gli ha detto semplicemente l'ha chiamato per nome Luciano e gli ha sputato sulle scarpe non sto né apprezzando né giudicando quello che ha fatto personalmente sono d'accordo con lui però questo non ha importanza però questo episodio racconta di chi era Pedro le mervelle ed è solamente una delle poche cose dove la sua verità era così importante da dover essere detta senza preoccuparsi delle 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 conseguenze insomma era amore era molto estremo era amore o odio o ti amavo o ti odiava non è che c'era una via di penso molto estremo anche nei rapporti con gli altri però la sua bontà non era mai messa in discussione come la bontà delle sue azioni le cronache di parla e cicatrice in Radio Tierra hanno anche una valenza educazionale nel senso che uno dei motivi per i quali lui aveva accettato di condurre questa trasmissione era perché pensava alle nanas sono le collaboratrici domestiche che non hanno istruzione non sanno leggere e attraverso il suo lavoro avrebbero potuto sapere quello che stava succedendo un po' come la brigata Ramona Parra dei ragazzi degli anni di Allende che si preoccupava di alfabetizzare con il disegno queste erano le sue intenzioni e niente era solo per raggiungere una piccola un piccolo appunto a quello che diceva prima Onofrio e alla risposta di Silvia e anche all'osservazione di Eva è un mondo molto complesso però che si riassume con difficile da riassumere secondo me si riassume con il difficile da riassumere perché il suo concetto di verità è quello che ci spaventa a noi comuni mortali io ho sempre detto che per tradurre le mie per bisogna conoscere tante parolacce non tanto perché servono nella scrittura ma perché c'è bisogno di dirle mentre uno traduce nel senso che è veramente un lavoro difficile ma allo stesso tempo facile non so per me è molto difficile da spiegare è facile rimanere per me rimanere incastrata nel libro leggerlo è facile lo leggo così come se fosse una cosa aria veloce forte duro però molto difficile e quindi servono tante imprecazioni per poterlo tradurre è un linguaggio che come diceva Silvia va dal castigliano cileno al coa il linguaggio delle carceri all'unfardo argentino si esprime con un barocco anche nelle imprecazioni e tutte queste imprecazioni non sono il le gesta isteriche di una necessità sono ricercate linguisticamente anche quelle molto sì sono anche il modo proprio in cui costruisce le frasi molto particolare con tutti questi aggettivi che a volte trasformati in sostantivi che si trasformano in avverbi che si trasformano in è molto particolare il suo modo di scrivere che è colloquiale ma veramente barocco ci ricorda molto io ve lo immagino così se dovessi fare un gesto molto 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 duomo di milano ma ma allo stesso tempo colloquiale è una cosa è una cosa pazzesca sì secondo me è proprio bello perché anche perché dà una una voce un colore una dignità un potere a a tutto ciò che è marginale lo rende lo rende grande lo rende importante non so neanche cioè lo fa vedere così com'è e dice guarda questo è bello non è che lo dice quando parla della marginalità degli spazi o dei personaggi soprattutto quando parla di certi personaggi con questo modo di scrivere io trovo che sia dando loro una voce bellissima che è la loro voce quindi è parte del lavoro delle mie belle secondo me qualcun altro una piccola domanda pure ecco abbiamo parlato un po' del ruolo degli intellettuali cileni quantomeno ambiguo se non addirittura di collaborazione col regime vorrei sapere da te Paolo e da Silvia il ruolo invece che ha avuto la chiesa se è migliorata quantomeno anche perché esempi di chiesa un po' progressista vicino agli umili ne abbiamo ecco anche nel Sud America in quel continente per sapere appunto in Cile invece se c'è c'è stata un'evoluzione positiva appunto negli ultimi decenni dopo Pinochet quantomeno appunto della chiesa ecco io so che il vicariato cileno aveva aiutato in qualche modo mi sembra anche i dissidenti se non sbaglio ha avuto un piccolo ruolo quantomeno ecco di di dissidenza verso appunto la dittatura certo in un contesto sicuramente molto ambivo ecco vorrei sapere se è migliorata appunto la chiesa in questi ultimi tempi ecco se c'è se si è mosso qualcosina ecco anche da questo punto di vista io direi che durante durante la dittatura la vicaria della solidarietà della solidarietà sì ha avuto un ruolo abbastanza importante in realtà specialmente con i dissidenti politici disparisivi ha avuto un ruolo molto importante anche lei me ne parla nel libro qua e allo stesso allo stesso tempo però c'è il prese della tele che sta sta lì a parlare di di dei comunisti che si mangiano i bambini in televisione e quindi già c'è una c'è una grande differenza tra questo e poi il lavoro della vicaria della solidarietà che è stato comunque molto importante oggi la chiesa io direi che la mia esperienza personale è che quando si parla di chiesa in Cile oggigiorno se ne parla perché c'è un caso di abuso o di violenza minorile quindi è un po' purtroppo l'impressione che ho anche legato molto al discorso del Sename che è l'istituzione dello Stato che si occupa dei bambini orfani o senza risorse o diciamo si tratta di un po' l'assistenza sociale no? E è legata anche alla chiesa e ci sono tantissime storie non belle se è migliorata non lo so però sì sicuramente ti vedo convinto sicuramente mi sento di dire che forse ha perso c'è sempre questa divisione no? c'è questa parte della società molto cattolica conservatrice cattolica che tira sempre da quel lato però come dicevo prima le nuove generazioni sono diverse hanno un modo diverso di vivere anche la religiosità anche se sono cattolici o non cattolici evangelici ci sono molte molte religioni diverse qui c'è moltissimi evangelici per esempio eccetera non c'è solo quindi c'è c'è un barlume di speranza però io sono poco io sono personalmente poco religiosa quindi non non saprei diciamo però sì quando io quando sento parlare di preti molto spesso vengono alla tele con una notizia non bella la mia domanda non era da un punto di vista religioso lo so non ne so molto ecco diciamo che lo volevo dire però sì perché so appunto la chiesa tante volte ha anche un'anima progressista insomma non è solo quando è venuto il papa in Cile durante la dittatura sono cambiate anche un po' il papa ha avuto un'influenza positiva tra virgolette rispetto almeno al trattamento dei prigionieri e il discorso delle torture è stato il papa quando è venuto dopo che è venuto il papa durante la dittatura è cambiato un po' l'atteggiamento il modo di trattare di trattare le persone rispetto ai diritti umani però siamo sempre lì non è che insomma stiamo parlando di grossi di grossi cambiamenti dittatura e la dittatura è rimasta comunque c'è stato un cambiamento e si sottolinea l'importanza della vicaria della solidarietà che si è fatto un gran lavoro in realtà in Cile specialmente per le famiglie dei desaparecidos per aiutarli a ritrovare e sapere che era successo a cercare i loro familiari la vicaria che era comandata da un cardinale il cardinale Enriquez è stato un organo molto importante durante il tempo della dittatura nel periodo della transizione c'è stata una figura che è morta l'anno scorso Mariano Puga un prete il prete del popolo lo chiamavano tutti quanti così una persona vicino davvero vicina agli umili agli ultimi agli emarginati insieme a lui un altro un altro prete chiedo scusa non mi ricordo il nome perché io sono di un'altra parrocchia in questi termini però sono sempre sono sempre casi rari insomma non non ho niente contro la Chiesa Cattolica però ho problemi quando sì effettivamente ci sono tanti casi di pedofilia ci sono casi di indifferenza verso situazioni sociali vicini alla Chiesa e penso che che un organo ormai anacronistico rispetto alla società appartiene a un'elite che il discorso della fede a parte continua a frequentare certi ambienti un po' per obbligo morale tramandato da generazioni così si vive la religione in Cile che è molto presente senza dubbio però la popolazione cilena è fatta di altre forme di credenze che sono legate alle culture ancestrali dei mapucci alla relazione con la terra e queste vengono messe in secondo piano ma si parla solo della religione cattolica quando gran parte della popolazione vive a stretto contatto con col concetto di natura e col fatto che questa natura sia provvisoria per il fatto che il Cile è terra di terremoti sotto tutti i punti di vista dal mare dai vulcani e dalla terra stessa quindi questa concezione di appartenenza alla terra che che dà da vivere e che la può levare da un momento a un altro appartiene a grande parte della popolazione ed è lì che probabilmente ci si aiuta molto di più l'uno con gli altri rispetto al concetto canonico di religione cattolica bene se non ci sono altri dubbi domande curiosità a parte vi ricordo che potete scrivercele per email anche nei post incontri ringrazio tantissimo voi tutti per averci accompagnato in questo viaggio ringraziamo oggi in particolare Silvia grazie Silvia sei stata molto lemmebelliana nell'esposizione e nulla domani sera se volete continuare ad accompagnarci su questo gruppo presentiamo Sprinters di Lola Larra che per noi ha già pubblicato a sud della Alameda che ha vinto il premio Andersen nel 2019 una Sprinters la storia di Colonia Dignità un enclave nazista un po' vicino a te Silvia dove stai vivendo c'è anche una serie che è uscita su Amazon si l'ho vista un po' poi era molto violenta non era il momento poi lei guarda film anche un film del 2015 però a parte la crudezza della storia è davvero una bella storia di donne di due donne che che portano avanti la risoluzione di un mistero niente speriamo per qualche motivo di restare in contatto avete le nostre mail avete i nostri contatti qualsiasi cosa per favore non dubitate a scriverci e quando passerà tutto questo magari ci conosceremo nei vari saloni ci conosceremo di persona che sarà cosa buona e giusta anche tornando alla ricca stavo chiedendo in che città sei tu Paolo noi attualmente viviamo in Abruzzo a Ortona Alice di Ferrara però abbiamo deciso di venire qui i posti sono belli per quanto ne so sì una nota ancora solo sulla chiesa è stata anche tanto compromessa con tutti i regimi peggiori del Sud America quindi c'era comunque la necessità di dare uno sacco e come qua c'è una grossa divisione tra ciò che è la base della chiesa quindi i singoli pagocci o i singoli pastori e quello che fanno le chiese ai loro è complicato ci vorrebbe un discorso un incontro a parte per affrontare questo tema perché davvero è preoccupante cercare di mantenere il rispetto e allo stesso tempo preoccupante dire le cose come stanno perché sono sempre fermamente convinta che le cose vadano sempre destre e possibilmente risolte anche perché se no non ne esci mai ma questo sia dal punto di vista sociale che da quello personale domestico anche in ogni contesto io vi ringrazio tanto l'incontro di domani sera lo registrate perché io domani sera non posso la registrazione chiediamo la registrazione perché domani sera tecnicamente siamo ospiti di questo gruppo però mi piacerebbe moltissimo avere la la registrazione la presenta Stefano Bonazzi che è un autore italiano che con la sua opera è molto vicino ai temi di Lola quindi mi incuriosisce molto vedere questa conversazione tra simili tra virgolette grazie di tutto no grazie a voi davvero di cuore è stata no no per me è stata una piacevole scoperta quindi ho detto di tanto di fare questi pacchetti a me è piaciuto e magari qualcun altro si si aggrega di nuovo giusto? speriamo perché giusto sentieri ok un saluto a tutti un saluto a tutti ciao ciao grazie arrivederci buon rientro ciao Silvietta grazie ciao grazie a tutti